E' soprattutto la consuetudine a garantire il perenne successo delle fiere paesane, ma la fiera di Arsego, riproponendo caparbiamente i padiglioni dedicati alle attività produttive, è indubbiamente un segno di speranza per la ripresa economica tanto auspicata e insieme uno stimolo al rinnovamento, perché la sola fiducia non basta. Per la prima volta alla guida della Proloco del comune di San Giorgio delle Perdiche per la 265esima edizione della fiera di Arsego, una bella emozione e un bel onere anche, no? Mi sono sempre dato molto da fare in passato, anche se mi sono attualmente trovato in delle situazioni molto più grandi di me, ma con l'aiuto di tutti i volontari della Proloco, con tutto il circuito di persone che abbiamo intorno, siamo riusciti a tirare fuori un'ottima fiera anche quest'anno, abbiamo fatto un ottimo stand live, un ottimo stand gastronomico e un super stand, un super expo dove abbiamo cercato di ottimizzare il più possibile tutti gli spazi in maniera che tutti i nostri clienti che da anni vengono a visitarci, a trovarci, possono trovare una fiera sempre moderna, sempre innovativa e torno a dire che tutto il direttivo Proloco si è sempre impegnato per far sì che questa fiera resti sempre ad un alto livello di qualità, sia per quanto riguarda gli espositori, sia per quanto riguarda il circuito delle persone che ci vengono a trovare. Nonostante tutto la terza domenica di ottobre e per cinque giorni a Arsego c'è festa. Ci siamo, ci siamo anche quest'anno con tutte le attività, siamo all'interno dell'Expo che è riuscita anche quest'anno grazie all'attività della Proloco ad essere ben fornita di attività, grazie alla fiducia che ci danno e grazie anche alla fiducia che hanno nel futuro perché non sono tempi molto floridi. Le attività esterne sono sempre le solite, qualche produzione magari di prodotti tipici un po' diversa però... Qualche difficoltà in più quest'anno nell'organizzare, visto anche il momento? Sì, c'è stato molto timore soprattutto per le attività perché Regioni in Tour è caratterizzato da prodotti tipici di tutte le regioni quindi pensare a persone che partono da tutta Italia per venire qui c'era qualche timore. E poi soprattutto per le attività produttive perché abbiamo visto anche fiere tipiche come le nostre che quest'anno non hanno potuto fare il capannone delle attività produttive. Quindi siamo molto contenti ma soprattutto per questo aspetto di positività che è un messaggio che è importante per il mondo economico territoriale. 265 anni di storia per Arsego, che cosa rappresenta ancora la fiera di Arsego? Beh, è un punto d'incontro, è una tradizione ma soprattutto con la partecipazione di molti operatori, molti artigiani, piccole imprese del territorio fanno vedere la volontà di crescita, l'ottimismo, un po' di ottimismo che non guasta e soprattutto la speranza di una ripresa vicina. E poi la fiera è tutta da gustare, da assaporare, è una fiera quella di Arsego da vivere sempre. Un momento difficile, questo lo sappiamo tutti. Adesso i politici non è che siano tanto ben voluti dalla gente. Che cosa può fare ancora di più la politica per aiutare questa tanto agognata ripresa e ricrescita economica? Ma credo che i politici devono prima di tutto dare l'esempio, devono dimostrare di saper fare squadra, devono essere vicini, devono essere vivere all'interno del territorio e soprattutto portare a livello superiore le istanze degli operatori economici in questo caso, ma soprattutto dei cittadini che in questo momento di difficoltà effettivamente soffrono e bisogna soffrire assieme. Quando ci sarà la ripresa, Presidente? Beh, bisogna chiedere nelle altre sfere. Io mi auguro e spero vivissimamente che sia presto. Alcuni segnali ci sono, come ci sono ancora molti segnali negativi, ma comunque alcuni segnali già si cominciano a vedere o a intravedere. Spero che effettivamente siano un segno premonitore del futuro, che spero sia senz'altro migliore. Stiamo premiando Luca Simioni in rappresentanza della pasticceria Marisa e diciamo che praticamente la particolarità di questa gelateria è che è il frutto di una generazione dal nonno alla mamma a Luca. Quindi una tradizione che sfocerà però quest'anno, nel febbraio 2013, in una gara mondiale di pasticceria e Luca sarà il rappresentante capo squadra della squadra italiana. Quindi sicuramente il nostro augurio in bocca al lupo che parte da qui, dalla fiera di Arsego. E i complimenti alla sua generazione, alla mamma che ha creduto in questa professione e a lui che la sta portando avanti con grande dignità. Grazie a tutti.